Ciao a tutti ragazzi sono Lottac e benvenuti in questo video del canale in questo video andiamo a vedere come completare la sfida in fiegi danni entro 20 metri da appunto con un levolver o una pistola in modo molto semplice di completare questa sfida quindi appunto detto questo io ne ho saputo con il video come ben sapete per completare questa sfida in maniera molto molto semplice ci passerà a trovare degli animali gli animali li potremo trovare esattamente in tutta la mappa ma più facilmente vicino oppure addirittura dentro alle parti più arancioni per completare questa sfida dovremo prendere un levolver ci richiediamo appunto qua l'animale e spariamo esattamente alla testa in modo da infliggere più danno e tac fino a ucciderlo miriamo sempre alla testa in modo da poter fare più danno ecco e così avrei già completato un punto della sfida proprio perché appunto tutta la sfida chiede di farla esattamente 500 volte quindi appunto questa qua dovremo farla entro 20 metri perché se no la sfida non funzionerà quindi appunto come avete visto da questo video è molto molto semplice di completare questa sfida quindi appunto detto questo video il video d'oggi termina qua se vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale e mando la campanella delle notizie vi piace o non mi piace e mi sentite la mia la sita tra i sabato del 20 all'ora 21 e con questo ci vediamo alla prossima grazie a tutti